È rimasto miracolosamente illeso un parapendista polacco precipitato a terra dopo aver perso il controllo della sua vela. L'uomo è finito su un prato a Colserai, a Semonzo, di Borso del Grappa. In un primo momento era scattato l'allarme per un probabile scontro in volo, ma poi è emerso che si trattava di un unico parapendio. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto da un'ambulanza del SUEM con i sanitari provenienti da Crespano, in supporto anche al soccorso alpino.